E ora parliamo di un tipo di chirurgia plastica che va fatta dopo un intervento per dimagrire perché, se si può dire in modo semplice, resta sempre una certa quantità di pelle di troppo. Vediamo in che consiste. La chirurgia plastica è sempre necessaria dopo un intervento di chirurgia bariatrica, cioè di dimagrimento? Nella maggior parte dei casi sì. Dal momento che si tratta di pazienti che dopo aver perso molti chili hanno problemi di elasticità cutanea e di elasticità tessutale e quindi, a meno che non si tratti soggetti molto giovani e che dopo l'intervento praticano attività fisica, insomma curano il proprio corpo nella maggior parte dei casi in molte aree corporee necessarie. Quali sono le zone da trattare? L'addome, braccia, gambe e spesso hanno interventi circonferenziali cioè a 360 gradi per tutto riguardo il dorso. Dopo quanto tempo dall'intervento in genere si interviene? È fondamentale attendere un periodo di stabilizzazione mediamente si vogliono dai 9 ai 18 mesi dopo aver perso il numero di chili necessario. Si fa a tutta l'età o è solo un fatto estetico? Generalmente sì. Dal momento che non si tratta di un problema esclusivamente di carattere estetico ma molto spesso di tipo funzionale. I pazienti possono avere problemi riguardo a nepliche cutanee problemi proprio fisiologici oltre che relazionali. Quindi va inteso più come una chirurgia ricostruttiva che una vera e propria chirurgia estetica. Qual è la difficoltà maggiore nell'operare questo tipo di persone? Si tratta di pazienti che hanno una serie di comorbidità residue hanno spesso problemi metabolici, problemi cardiologici associati e tendono soprattutto a formare più facilmente ematomi, sieromi o eventualmente trombosi venose profonde. Quindi sono sicuramente interventi più complessi. Le aspettative di queste persone sono realistiche? Molto spesso no. Pur rimodellando il proprio corpo hanno sempre dei problemi cutani legati a una cute ricca di smagliature e comunque poco elastica. Basta solo la chirurgia rimodellante o c'è bisogno di un percorso più complesso? Sicuramente sì. Si tratta di pazienti che hanno una serie di comorbidità residue hanno spesso problemi metabolici quindi sono sicuramente interventi più complessi. Esiste un percorso che inizia con uno staff di psicologi, gastroenterologi, chirurgi bariatrici in cui il chirurgo plastico è il tassello conclusivo di questo percorso.